L'azienda è viva nonostante tutto. Un raspiro di sollievo, quello di Valerio Fabiani, consigliere per il lavoro e le crisi aziendali del governatore Gianni, a conclusione dell'incontro al Ministero delle Imprese del Made in Italy sulla vertenza FIMER, un tavolo nazionale convocato dopo la dichiarazione di insolvenza con l'azienda in amministrazione straordinaria. Di ritorno da Roma, Fabiani fa sapere che si sono registrati importanti passi in avanti per il gruppo del fotovoltaico. I commissari, infatti, nel corso dell'incontro hanno relazionato sullo stato dell'arte in questa prima fase. È bastato archiviare la stagione in cui la proprietà gestiva o comunque condizionava l'azienda, ha scritto sui social, per produrre per la prima volta dei risultati concreti, rassicuranti e in controtendenza rispetto al passato. Nell'ultimo mese, ha aggiunto Fabiani, pur nei limiti dell'amministrazione straordinaria si è determinato un significativo aumento di fatturato e l'azienda ritiene comunque di poter fare investimenti e valutare la possibilità di nuove assunzioni, così da preparare la ripartenza e la cessione ad un eventuale acquirente. Sono previsti tempi certi per l'operazione, conclude. Il closing è previsto comunque entro l'anno, ma si cercherà, se possibile, di fare anche prima. Ci sarebbero, infatti, un paio di soggetti interessati all'acquisizione che operano nello stesso settore della FIMER. Nel momento in cui si entrerà nel vivo della procedura di selezione, la Regione chiede di tener conto in via prioritaria della garanzia dei livelli occupazionali e della continuità produttiva.